e unire la pittura e la pasticceria. Realizziamo oggi una crostata alla Mondrian. Iniziamo con 300 grammi di farina 00 e una spolverata di cannella. Aggiungiamo la scorza di un limone biologico, 150 grammi di zucchero semolato, un cucchiaino di lievito vanigliato per dolci, questo renderà la nostra crostata molto più morbida quindi sarà una frolla un po' particolare. Io preferisco farla così in questo caso. 125 grammi di burro freddo di frigorifero che andremo a lavorare con le mani creando una sabbia. La lavorazione è abbastanza semplice, dovete semplicemente andare a omogenizzare così come sto facendo io in questo caso e realizzare appunto una sabbia. Ora che burro farina hanno raggiunto questa consistenza andiamo ad aggiungere anche la nostra farina di mandorle. In questo caso utilizzeremo questa preparata in casa senza zucchi raggiunti, un prodotto di qualità. La farina di mandorle è stata aggiunta quindi dedichiamoci ora alla parte liquida. Ora io qui sto aggiungendo due uova ma voi ne metterete solo una perché io sto raddoppiando le dosi e voglio fare più crostate quindi un uovo e aggiungete anche 4 cucchiai di latte o inoltre anche un pizzico di sale che ci sta sempre bene nella frolla. Lavorate velocemente e ottenete il panetto. Come vedete è un panetto che risulta molto plastico ma non appiccicoso quindi pellicola trasparente e in frigorifero. Almeno due ore ma se lo lasciate tutta una notte è ancora meglio. Per realizzare questa costata ci servirà chiaramente una teglia dove andare a depositare. Qua rivestiremo con della carta forno e poi ci servirà questo. Allora si tratta di un anello, un anello in questo caso quadrato e poi vi do le misure e ve le lascio in descrizione ma questo è circa da 22 centimetri. Poi chiaramente la potete fare più grande, più piccola, come volete voi. L'importante è che sia questo tipo di forma perché questa crostata va quadrata. Per quanto riguarda le confetture sceglieteli di diverso colore. Vi consiglio tre colori quindi una chiara così di albicocche ad esempio, ciliegia oppure fragola e poi frutti di bosco oppure mirtilli in modo che tenda all'oscuro, al nero. Queste sono quelle che ho scelto io. Sono anche di quelle light che un po' meno zucchero non guasta. Allora un po' di farina chiaramente, carta forno, se volete facilitarvi le cose utilizzate due fogli per stenderla, la farò la mettete in mezzo. Non ancora, prendi il tu, mattarello e cominciamo la stesura. Allora un po' di farina così, con il mattarello per sicurezza e cominciamo a lavorarla. Una volta stesa andiamo a ricavare la forma semplicemente premendo così eliminiamo l'eccesso e poi andiamo a costruire i bordi con dei rotolini, insomma fate come meglio vi viene. Potete anche rotolare nel mattarello e poi rovesciare l'acqua sopra, ma così secondo me è un po' più facile. Allora, vedete che poi rimangono dei puntini perché l'abbiamo stesa perfettamente quadrata, ma comunque sia giusta. Adesso aggiungiamo la pasta per fare i bordi e poi andiamo a creare le forme al centro. Ecco la nostra base pronta, ora andiamo a ricavare delle figure geometriche tipo queste. Dobbiamo fare qualcosa di questo tipo. Dopodiché andremo a farcire e quindi in forno. Ecco la nostra divisione e ora andiamo con le marmellate. Devono essere tutte alternate in colori diversi in modo da creare quell'effetto di dipinto. Allora, poi chiaramente se avete altri colori utilizzatene perché ci sta sempre bene. Adesso andiamo in forno, 170 gradi, calore dal basso e ventilato fino a cottura. Credo che ci vorranno una mezz'oretta. Ecco la nostra crostata appena uscita dal forno. Lei ha cotto esattamente per 30 minuti. La doratura qua ci vuole, mi raccomando, perché questa è abbastanza fragile, quindi fatela cuocere bene. Adesso la lasceremo raffreddare. Ecco la temperatura ambiente. Sfileremo il cerchietto metallico e quindi la serviremo. Il tempo di farla raffreddare e di estrarla dal suo anello contenitivo e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate che carina questa crostata. È veramente molto particolare. Ricorda sì alla lontana le opere del celebre pittore che sono tutt'altro che semplici anche se così appaiono. E in effetti non è tanto semplice neanche realizzare questa crostata senza distruggerla, ma con un po' l'attenzione si riesce. Provate questa ricetta e fatemi sapere che ne pensate. Io intanto aspetto per assaggiarla. Raga, e questo è il taglio della fetta. La faccio vedere da vicino. Cosa ne pensate? È molto molto carina. Questa variazione di colore la rende molto appetitosa. Vi faccio vedere anche il fondo perché potreste sembrare bruciata, ma non lo è assolutamente. Guardate un po' il colore. È perfetta. e quindi andiamo all'assaggio. Provatela e buon appetito!